Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video unboxing ma questa volta è la prima volta un po' particolare ordinato da 100 grammi il pacco pesa 5 kg sono stati veramente molto riusci abbiamo ordinato venerdì era tardo pomeriggio oggi è martedì quindi in due giorni a me è arrivato quella posta che era SDA quindi sinceramente super veloce ma andiamo a vedere ho preso un po' di pasti perché ovviamente li andremo a testare insieme in una 24 ore quanti pasti sono? 7, 8, 9 non mi ricordo ma all'incirca ho speso 55 euro ovviamente poi vi dirò i prezzi quando li andremo a provare mia mamma super felice ha detto che belli, i pasti pronti così non devo cucinare è la prima volta anche che trovo queste cose però ti voglio dire è la prima volta ok vi faccio vedere come arriva qua c'è una busta che si apre aspettate si apre è proprio un bussore refrigerato questa è una fattura 55 euro e 50 euro ovviamente c'è il ghiaccio secco 5,70 di spedizione 8 pezzi sono 8 pezzi questo è il ghiaccio il bustone bello grande bello grande andiamo col primo ha cambiato il pack perché poi vi pensiamo ad andare anche un po' a curiosare 100 grammi dai il pack ci sta tutto non lo so è un waffle al cioccolato bianco con pistacchi ce ne sono tre ce ne sono tre no ce ne sono quattro ah wow ecco di da faremo insieme tra virgolette questa cosa sicuramente manderò anch'io ok wow che bello allora ovviamente la scadenza sì sicuramente ma se mi sbaglio si conservano il 4 del 2022 ok quindi l'11 aprile scade sì perché c'era scritto tipo che si conserva per non so quanti giorni mi dice anche le calorie le proteine i carboidrati grassi come cuocere le 6 microonde o in forno a 160 gradi quindi fantastico dai che bello vai per la confezione pesca tu poi pesco io e me sei tutte uguali sì sono tutte uguali la vecchia mi piaceva di più quello che abbiamo visto che cosa c'è allora questo è sono cuori rossi di bufala campana con crema di basilico vediamo pochi noia un po' si c'è oddio si presenta un po' brutto però comunque sono da riscaldare eccoli qua ovviamente li vedremo questi qua sempre solita cosa padelle 4 minuti ok prego però sono contenta ovviamente sicurosa se vi piace poi ovviamente se vi piacerà questa tipologia io vi porterò anche altri video dove proviamo altre cose perché secondo me molti di voglia queste oh i peli della maglia cosa ci sarà? pancake io sul pancake pancake al naturale con miele mille e fiori cioè solo quale buone no wow bella faccia sembra quella di stamattina anzi forse più morbidi no vabbè raga hanno una faccia proprio bella quante ne sono? 4? 4 per le colazioni io sono contentissima secondo me tu peschi quello che voglio provare fammi vedere waffle proteici red velvete scaglie di cocco wow no vabbè ma sono bellissimi si vede ma sicuramente ovviamente ve li farò vedere nel dettaglio ok vabbè io già mi sono innamorata guarda qua taggaci nelle tue stories le migliori riceveranno dei prodotti regali che vi taglio direttamente come copertina va davanti focaccia al carbone vegetale con orive verde e pomodoro sta pure interessante ovviamente confezione sempre così ma questi ne ho presi due enorme 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 però mi ispira se mi hai visto non è bene vai no vabbè io sono contenta ma che papà vedrà queste cose sì sì sicuramente poi tacchino la soia e mandorle con broccoli e patate ho paura no pure io ma questo a me ispira tantissimo non so ne dai bellino guarda qua le mandorle le carote dai non pensavo peggio queste però vanno condite secondo me sì sì ok wow posso dire vai vai è la prima volta che vedo queste cose non mi viene tipo lo schifo oh mio dio invece ho proprio voglia di provare sì sì perché hanno una faccia proprio bella sembra tipo quando tu te li prepari a casa ti avanzo un po' e le metti nelle vaschezine sì è vero questo è vero è esatto sono utilizzabili queste ok questa è un'altra focaccia come quella di prima uguale uguale perché ne ho presi due questa è più grande no sì 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 ok ti do la tua vediamo questo lo so che cos'è black burger con full head chicken e padale dolce oh questa bestia oddio vai a vedere no vabbè raga è enorme si sente così cioè secondo me non si vedrà una pippa però poi ve lo faccio vedere perché questa settimana faccio pure il video ma per forza mamma mia adoro ok ultimo no non ci sono sono finiti come? no ma quindi l'ultimo era il mio sì allora io che dire io sono rimasta molto soddisfatta per il servizio ovviamente per il sapore le andremo a provare insieme e darò anche io la recensione di questa azienda sinceramente dai no 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 mi ispira presentazione eccellente anche i tempi di spedizione alla fine due giorni molto veloce e quindi nulla noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao